Un centinaio di persone si sono riunite ieri sera in piazza Salimbeni a Siena di fronte alla sede centrale di Banca MPS per ricordare David Rossi, il capo comunicazione del Monte dei Paschi precipitato da una finestra nella sede della banca il 6 marzo 2013 in circostanze ancora da chiarire. L'iniziativa è stata promossa dai familiari. Non è stato fatto nessun minuto di silenzio perché subiamo il silenzio da dieci anni. Ha spiegato Carolina Orlandi che insieme alla madre Antonella Tognazzi, compagna di Rossi e a tutti i familiari sia sempre battuta per avere verità e giustizia su quanto avvenuto dieci anni fa. Quello che si può vedere su quello striscione, tutti i messaggi di appoggio ma anche il fatto che questo striscione sia logorato è un po' anche una metafora di quello che rappresentiamo noi oggi perché noi siamo logorate un po' ma ancora in piedi. Dobbiamo portare all'attenzione di questo paese ma soprattutto l'istituzione giustizia che ancora oggi non ha mai aperto un fascicolo per omicidio. Sappiamo che la commissione d'inchiesta ha lavorato sodo in questi ultimi due anni. Purtroppo si è dovuta sciogliere con lo scioglimento delle camere alla caduta del governo. È notizia di pochi giorni fa che tra qualche giorno verrà riportata in aula per essere votata nuovamente e quindi ripartire diciamo. Le indagini furono dirette dalla procura di Siena che archiviò il caso come suicidio ma molti sono gli aspetti ancora da chiarire evidenziati anche dalla commissione parlamentare d'inchiesta nella scorsa legislatura. Una nuova partirà a fine mese ma la richiesta della famiglia è di riaprire l'inchiesta. La magistratura dice che è tutto normale. La commissione ha tirato fuori fondamentalmente alcuni punti fermi. Davide è stato picchiato, hanno detto tre un suicidio con quelle modalità in tutta la loro carriera non l'avevamo mai visto.